Ciao a tutti, mi chiamo Svetlana, sono da Ucraina, da Kiev. La mia famiglia, la mia mamma e il mio figlio, ora siamo in Italia, Neapol, San Giorgio. Ciao a tutti! Svetlana è ospite di Don Giancarlo Ruggeri, parroco di Maria Santissima Immacolata in San Giorgio Ionico e proprio lui ci ha aperto le porte della sua canonica per conoscere la sua nuova famiglia. Come parrocchia naturalmente abbiamo aperto le porte di casa ai nostri amici che purtroppo vivono questo momento di sofferenza come tutte le altre comunità parrocchiali della diocesi. Insieme a Svetlana c'è la sua mamma anziana, c'è il giovanissimo Mark che ha cominciato ad andare a scuola proprio a San Giorgio ed altre giovani ospiti, ma qui finalmente c'è soprattutto calore, accoglienza. Le hanno parlato, le hanno raccontato dei primi giorni vissuti durante il conflitto? Guarda, abbiamo fatto semplicemente qualche domanda, però non vogliamo infierire perché penso che escono e portano con sé dalle ferite molto profonde che noi stiamo evitando di riaprire con i ricordi. Per ovviare alla principale difficoltà del momento, la comunicazione, si utilizza un sistema di traduzione simultanea possibile grazie ad una specifica applicazione presente sugli smartphone. Un messaggio per chi volesse accogliere. Penso che sia l'atto più bello, no? Quello che è mettere in pratica il comandamento che Gesù ci ha dato, amatevi gli uni gli altri come gli odi amati.